Musica Ben ritrovati con la rubrica dedicata alle attività della Fondazione MAAC di San Michele all'Adige. Oggi realizziamo un simpatico viaggio all'interno dei nuovi laboratori didattici della scuola dove gli studenti imparano a produrre tante cose, dal pane al formaggio, dagli insaccati al miele, perfino la birra. Vediamo. Si tratta di quattro laboratori moderni e attrezzati situati nell'ex mensa della Fondazione MAAC. Come è nata questa idea e all'interno di quali percorsi formativi si colloca, ce lo spiega il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, Marco D'Arri. L'idea di allestire questi laboratori nasce soprattutto dall'attivazione della formazione professionale, in particolare del corso agroalimentare. In ogni caso, fin da quando abbiamo attivato la formazione professionale, abbiamo pensato che non si poteva separare la produzione dalla trasformazione, dalla valorizzazione dei prodotti e quindi è nata subito un'idea di allestire laboratori di questo tipo. Poi l'attivazione anche di un corso specifico agroalimentare chiaramente ha consolidato questa scelta e attualmente sono fondamentali proprio per gestire questo corso che deve formare dei tecnici del settore agroalimentare. Tuttavia questi laboratori sono di supporto per tutti i corsi presenti in istituto in quanto anche i periti agrari o gli agrotecnici comunque devono fare delle esperienze di trasformazione dei prodotti. Il primo laboratorio che visitiamo è quello di casificazione. Siamo con il docente Giampaolo Gaiarin che ci spiega quali attività vengono svolte qui. Allora, nel laboratorio di trasformazione del formaggio insegniamo ai ragazzi come si fa l'attività di trasformazione dal latte al formaggio. È un'attività rivolta a tutta la formazione professionale dell'istituto, quindi dalla prima agroalimentare che sono i ragazzi che viviamo qui oggi fino alle quarte e le quinte. Ricordiamo che questo laboratorio si rivolge anche a soggetti esterni. Assolutamente sì, sono già stati svolti dei corsi per preparare e formare delle persone che svolgono un'attività aziendale di trasformazione, quindi c'è una formazione rivolta anche all'esterno. Quali formaggi vengono prodotti qui? Allora, con i ragazzi facciamo un po' tutta la gamma dei prodotti, dai freschi, quindi a brevissima maturazione alcuni giorni, poi formaggi a media maturazione cacciotte e anche a più lunga maturazione, quindi tipo i formaggi nostrani che abbiamo nei nostri casifici trentini. I ragazzi dimostrano grande interesse per queste attività pratiche, vero? Assolutamente, dimostrano grande interesse e anche una buona abilità per quanto riguarda la capacità di operare. Una volta visto, imparano subito con molta passione e dedizione. Ora raggiungiamo uno studente che frequenta il corso per la trasformazione agroalimentare. Lei come ti chiami? Tommaso Gerola. Che cosa farai da grande? Casaro. E oggi che cosa fate qui esattamente? Stiamo facendo una cacciotta, che è un formaggio a pasta cruda, perché non prevede la fase della cottura. Mi spieghi, Tommaso, come si svolgono le fasi della produzione della cacciotta? Il latte, dopo essere stato messo in caldaia, viene riscaldato e a temperatura di 18 gradi vengono aggiunti i fermenti lattici. Dopo, quando il latte raggiunge la temperatura di 38-40 gradi circa, viene aggiunto il caglio. Dopo la fase di coagulazione, che dura circa 10-15 minuti, viene la spinatura, cioè il taglio della cagliata. E dopo una prima spinatura fatta a croce, c'è quella per portare i grani più piccoli e farli perdere siero e poi vengono raccolti negli stampi. Benissimo, grazie Tommaso, è molto bravo per queste informazioni molto dettagliate. e ora raggiungiamo il laboratorio per la lavorazione della carne. In questo laboratorio si svolgono diverse fasi della lavorazione della carne, che ce l'illustra il docente Salvatore Ghirardini. Sì, dunque, in questo è un laboratorio nuovo, che nasce quest'anno appunto con questo nuovo percorso, e in questo laboratorio si lavorano appunto le carni. Tradizionalmente qui vengono portate tutte le carni prodotte in Trentino, quindi cerchiamo di lavorare carne trentina, proprio per far capire anche al nostro studente qual è il valore di questi prodotti che sono autoctoni, quindi credo che sia anche questo in una fase determinante. E lavoriamo il fresco e anche fino alla produzione dello stagionato, quindi salumi e lavorazioni specifiche, anche del fresco, come stiamo vedendo anche oggi, che stanno facendo appunto una lavorazione del vitellone, del manzo. Quali prodotti lavorate qui? Allora, noi prendiamo tutta la carne in osso, quindi diventa fondamentale questo, perché la preparazione dell'allievo, questo deve essere un macellaio e salumiere, quindi deve sapere lavorare l'anteriore colosso, quindi dal disosso al conoscere le parti, quindi sezionare le parti e abbinare anche le cotture di tutte queste parti che vengono lavorate per i bovini adulti e per i vitelli. Con il maiale invece la lavorazione viene fatta e la trasformazione è quella dei salumi tipici, quella lucanica, il salame, la mortandella, lo speck, la pancetta fumicata e quindi tutti i prodotti nostri, i trentini. Peraltro noi collaboriamo anche con la federazione allevatori trentini, quindi loro sono i nostri fornitori di carne e abbiamo anche dei contatti con il presidente della federazione macellai dell'Unione Commercio e Turismo e anche delle visite facciamo presso i loro laboratori delle macellerie trentine, quelle con il marchio tipico trentino. Quindi importanti collaborazioni in atto. Ricordiamo che la lavorazione delle carni è un preciso indirizzo all'interno del corso per la trasformazione agroalimentare. Questi ragazzi saranno i futuri macellai? Sì, ecco, questo è l'obiettivo nostro, è questo. È chiaro che questo è un corso che dà un ampio respiro a tutti perché comunque i primi due anni loro si occupano di tutti e quattro i laboratori che sono proposti all'interno di questo percorso. Al terzo anno loro faranno una scelta specifica a chi farà la macelleria, a chi farà la trasformazione del latte o la birra o il pane. Quindi comunque alla fine di questo percorso loro avranno le capacità per poter produrre sia dei salumi che dei formaggi che tutti gli altri prodotti che vengono proposti. Quindi per un ragazzo che vuole approcciarsi perché ha un agriturismo o perché ha voglia di aprire qualche attività magari in proprio questo sicuramente è una formazione completa. Siamo con lo studente Filippo che ci spiega il tipo di lavorazione che sta facendo con i suoi compagni. In questo momento abbiamo finito di disossare una spalla di bovino adulto. La spalla è la parte ritagliata dall'anteriore dell'animale ed è composta di sei parti lo stinco, il gerretto, la copertina, il cappello del prete il girello di spalla, il fesone di spalla e il breone. Che tipo di cotture si prestano queste parti? Queste parti che ho appena elencato si prestano delle cotture lunghe le quali sono brasati, in umido, bolliti e in bocconcini. Nelle prossime puntate ci occuperemo di come i ragazzi producono pane, birra e miele. Per ora vi saluto, do la linea Walter Nicoletti noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Arrivederci.